Ci troviamo a Castelseprio, che è patrimonio dell'UNESCO come sito archeologico dal 27 giugno del 2011. Castelseprio era un avamposto, un baluardo difensivo all'epoca romana. Il luogo, essendo su un promontorio, garantiva la possibilità di poter difendere tutta la zona circostante all'interno delle mura del luogo c'erano anche delle zone prettamente religiose, come ad esempio la Basilica di San Giovanni Evangelista, davanti alla quale ci troviamo, che è datata V-VI secolo. Percorrendo poi il perimetro della Basilica si arriva all'annesso battistero. Il battistero di Castelseprio è un battistero a pianta ottogonale, quindi viene ripreso proprio il concetto del numero 8, quindi dell'infinità e dell'eternità, ma nasconde anche un mistero, è il mistero della duplice fonte battesimale. Una fonte battesimale a pianta ottogonale e una fonte battesimale invece a pianta rotonda. Non si riesce a comprendere esattamente come mai ci fossero due fonti battesimali. L'ipotesi più accreditata può essere quella che ci fossero più religioni che convivevano all'interno dell'esercito, però il mistero di Castelseprio ovviamente continua. La giornata della Via Lattea è andata bene, è una giornata splendida. Coloro che sono arrivati a visitare questi luoghi hanno mostrato molto interesse nonostante il sole battente, visitato anche da stranieri continuamente. Questa mattina ho avuto due neozelandesi avvenuti appositamente a Castelseprio, quindi vuol dire che è un luogo conosciuto all'estero che forse anche noi italiani dovremmo conoscere un po' di più. Grazie. 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 Grazie.